L'Assemblea Nazionale di Potere al Popolo abbraccia e ringrazia i lavoratori del porto di Genova. Ci siamo incontrati di centinaia da tutta Italia per discutere su come organizzare e unire le lotte, perché questo facciamo noi. Stiamo organizzando un soggetto capace di diventare uno strumento utile per i lavoratori, le lavoratrici e gli soldati di questo Paese. In un panorama spesso dipinto come stile e desolato, l'iniziativa dei cavalli di Genova che si sono posti ai signori della guerra rappresenta per noi un segnale in controtendenza, che deve essere da esempio per tutte le lotte del Paese. Ritorniamo nelle piazze e troviamoci tutti insieme. Potere al Popolo.